Alla vigilia di Ferragosto il Comune dell'Aquila ha pubblicato il nuovo elenco che stabilisce i contributi per finanziare la ricostruzione privata. In sostanza si tratta dell'elenco dei beneficiari e delle risorse per ricostruire o ristrutturare le abitazioni danneggiate. Ma forse per effetto della stanchezza o forse dell'atmosfera prefestiva, del caldo a foso che anche all'Aquila si fa sentire, i conti non tornano. Nell'ottimistico comunicato stampa diramato dal Comune e firmato dal sindaco Pierluigi Biondi, dall'assessore alla ricostruzione privata Vittorio Fabrizi e dal dirigente del settore ricostruzione, si legge che sono 37 i provvedimenti destinatari del finanziamento per oltre 50 milioni di euro. Ma a uno sguardo attento risulta esattamente il contrario, che le pratiche sono 50 e i fondi 37 milioni. Questo 43esimo elenco dei contributi per ricostruire si divide come di consueti in due parti. La prima riguarda gli immobili per i quali i soldi stanno arrivando, sono già disponibili nei conti correnti dei proprietari, circa 7 milioni. Il secondo, il più corposo di quasi 30 milioni, contiene progetti che non hanno ancora il titolo abilitativo edilizio e quindi il cantiere è lontano dall'essere avviato. La fetta più grande delle risorse è destinata ancora una volta al capoluogo, dunque dal punto di vista della concretezza dell'apertura dei cantieri, le frazioni restano al palo, anche se in questo 43esimo elenco ci sono somme per i cantieri di alcune frazioni. Un elenco che, come il precedente, purtroppo segna un rallentamento della ricostruzione effettiva, a fronte invece del lavoro portato avanti dall'ufficio speciale per quanto riguarda l'iter, diciamo così, amministrativo o gestionale delle pratiche. Infatti, poco sostanzioso è stato anche il precedente elenco pubblicato nei primi giorni di luglio dal Comune, di circa 20 milioni di euro, di cui soltanto poco più di 7 erano effettivamente cantierizzabili. Nemmeno sta avendo una funzione di accelerazione della ricostruzione il nuovo cronoprogramma voluto dal sindaco Biondi e dall'assessore Fabrizi, in quanto si concentra sugli esami della scheda parametrica parte prima, che l'ufficio speciale deve esaminare, ma che deve essere poi seguita dal progetto effettivo e poi ottenere appunto le autorizzazioni necessarie dal Comune. È proprio a questo punto che il sistema si blocca creando una ricostruzione a macchia di leopardo. Grazie a tutti.